Siamo col signor Giuseppe Maffei della concessionaria Gruppo Maffei. Signor Maffei, lei sostiene quest'anno con una insolita passione per la Regione, l'evento Abriola Sellata, che ritorna quest'anno con un nuovo format, ovvero come raduno di precisione. Sì, la nostra passione ci lega alla possibilità di dare qualche segnale di partecipazione per quanto riguarda le gare agonistiche, anche se di regolarità o vetture d'epoca o anche vetture abbastanza sportive, moderne, però abbiamo preferito rivolgere questo tipo di collaborazione con l'ACI di Potenza e il Club dei Lupi della Lucania, proprio perché ci hanno coinvolto in una maniera importante per poter svolgere tutta una serie di gare a partire da domenica fino all'ultima gara che si terrà a fine ottobre. Stiamo valutando la data che è collegata con la notte dei lupi e quindi avrà una novità che si partirà di notte e quindi ci sarà una possibilità di gara diciamo cronometrata barra regolarità per poter ovviamente avere questa affluenza di appassionati di automobili.